Entro sabato vengono sgomberati 320 migranti del Cara di Castelnuovo di Porto, che in provincia di Roma è il secondo più grande centro di accoglienza d'Italia. Il centro chiude i battenti a fine gennaio. Prima dei trasferimenti, iniziati da pochissimi giorni, c'erano 552 persone, 413 uomini, 124 donne e 15 minori. Sono partiti per ora in poco più di 100 gli ospiti trasferiti in strutture di altre regioni. Le destinazioni sono Umbria, ma anche Piemonte, Emilia e Lombardia. Ci sono stati inoltre trasferimenti verso Abruzzo, Marche, Molise e Campania. La chiusura di Castelnuovo di Porto avviene a poco più di un mese dalla conversione in legge del decreto sicurezza, che fa discutere molto e ha scatenato gare di solidarietà fra le persone che da oltre dieci anni accoglievano i migranti in questa struttura.